Ci sono movimenti che in estate, soprattutto nelle formazioni di pallavolo, che cominciano in autunno l'attività, sono praticamente d'obbligo. Voi avete cambiato qualcosina, il corpo grosso è rimasto quello che era, dalla C in giù. Sì, dunque in Serie C l'allenatore è stato confermato, Casalin Giacomo, ci mancava, ha vinto il campionato. La novità di quest'anno è l'insegnante d'educazione e fisica preparatore atletico che si chiama Inghilleri Leonardo e lo storico dirigente Giuseppe Baldi che rimane da millenni ormai, fa parte integrante della serie più alta che abbiamo. Cambiamenti a livello tecnico, però c'è qualche movimento anche con le ragazze. Lo zoccolo della serie D dell'anno scorso è rimasto quasi tutto. Ci sono stati degli inserimenti, soprattutto giovanili, la cosa mi piace moltissimo. Ragazze di 17-18 anni. Avremo comunque una ragazza che ha già giocato da noi, un po' più grande dell'età, che è la Ruini Maddalena, e torna e siamo ben felici di accoglierla, anche perché è un pezzo importante. Nelle altre squadre avremo la terza divisione femminile e l'under 18, dove anche lì ci sono stati qualche cambiamento. L'allenatore sarà Gullace, nella 16 invece è ritornato un allenatore, anche questo di vecchia data, che è Max, storico allenatore di Sassuolo, diciamo, e anche di questo sono molto felice. L'under 14 verrà guidata ancora da Fabrizio Manni, che l'anno scorso ha fatto un campionato splendido, arrivando ai nazionali e poi ci sarà il mini volley con le squadre dei più piccoli. Siete il punto di riferimento della frazione, ma anche della città e dintorni? Ma anche della città, perché poi dopo abbiamo sicuramente una 2, ma abbiamo anche una serie C abbastanza importante. Sicuramente una 2 è una cosa diversa, anche per le possibilità di ogni società. Noi siamo una piccola realtà, ma cerchiamo in ogni modo di fare della qualità, sempre qualcosa di nuovo, aggiungere pezzi pian piano, secondo quello che possiamo. I risultati vi danno ragione, si comincia prima della fine di agosto, dopo ferragosto, perché poi l'attività comincia dopo la fine di settembre. Sì, perché quest'anno inizia prima la serie C, per cui bisogna cominciare ad allenarsi, le ragazze faranno un ritiro in riviera, di un fine settimana, insomma, prima di iniziare veramente l'allenamento duro. Ecco.